Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 11 del display di Donkey Kong Country Tropical Freeze. Oggi dobbiamo fare la foresta di fuoco. Ah, abbiamo Dixie. Ok. Se non ricordo male, sto anche con caratterizzazione, spero che i caricamenti sono più lunghi. Se vado nel fuoco mi faccia male. Ok, sì. Vabbè. Cosa? Attacca. Oh, il cuore è perfetto. Buongiorno. Oh, c'è stato. Oh, posso spegnare le fiamme? Figo. Allora, attacche. Ahà, lo sapevo. Oh. No. Ok. Ma ho visto quanti pezzi di paese? Ci sono uno sette. Oh, che succede? Che succede? Oscar? Non è il... non è quello del ormai... Oh, no. Oh, no. Queste banane così eccitate. Oh. Banane, ma ne sembrano tante perché ne ho davvero poche. Aspetta, aspetta, aspetta un attimo. Prendile. No. Che palla. Prendi questo coso, ok? Ok. Ho visto qualcosa. Cazzo. Un casino. Vabbè, non ascomo a camminare. Di una. Dai, di una banana. Eh, comunque questo qui è molto più difficile di quello dei normali barini. È un casino. E vabbè. Un casino. Una volta non gioco così, qua c'è. Posso anche tornare io a te. No, aiuto! Oh! Eh! Ma dai! E vabbè, quello che c'è da prendere. Dai! Va bene. Sì, vabbè, io non ho mira più. Ma sì, tipo adesso... Un altro. Uno non ne bastava. No, questa... Un altro. Un altro. Un altro. Dai! Sì, vabbè... Sempre di una banana... Sfigo... Adesso un s... tipo... 5 secondi più ce la farei... Oh... Cos'è? Non l'ho mai vista l'impazzata... Vabbè, ho tutta la letta... No, ma c'è un'uscita alternativa oppure... Vabbè... Minchia... Terrore tenebroso... Eh dai, facciamolo subito... Ma sbagliando sono morti anche una volta in questo livello qua di fuoco... Figo... Siamo circa 8 minuti... Ok... Sbagliando... Oh... No... Ti prego... Voglio andare qua sotto... Mamma mia... Oh, questo è molto meglio... Oh... 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 Vabbè... Vabbè... Contro ci tocco... Ci devo... Ok, siamo bene... Sì... 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 Squali... Certo... Ho capito... Ho capito... Stato l'ultimo secondo... Dove entrare una sorta... Oh... Cazzo... Grazie... Oh... Che cazzo di pesce è questo? Non esiste... Vabbè... Cazzo... Oh... Cazzo... Oh... No... Il cuore... Oh... Lei c'aveva l'uscita alternativa... Figo... Vabbè... Oh... Dai... Oh... Cazzo... Cazzo... Sono riuscito a prendere... La riuscita alternativa... E neanche la riuscita... Aiuto... Oh... Sì... Sì... Certo... Contaci... Ma... Ma che cazzo sei te? Come vai via? Ho già perso un cuore... Vabbè... Mi sa dire... Oh... Oh... E adesso? Ma che cazzo... Ok... Oh... C'è fine lì bello... Vediamo se c'è qua sotto... Se ci trovo un pesce enorme... Mi cago sotto... Cacchiglia... Oh... Cazzo... Manca il fiato... Wow... Oh... Un'altra uscita segreta... Due uscite segreti questo livello... Cazzo... Qui si faceva... Perché non si può entrare? Mi ricordo che una volta... Cioè... Questa prima era si entrava... Oh... Strano... Forse avrete proprio un altro livello... Vabbè... Lì ti sforiano... Perché non so quanto taglio in questo livello... Il mio crometro fa quindici minuti però... Almeno un minuto... Dove tagliarlo... Mi si è bloccato gioco per un attimo... Canyon Cannone... Aspetta un attimo... Mi sta laggando gioco... Cannone... Aspetta un attimo... Secondo me che così... Mi devo toccare... Beh dai... Iniziamo... Quanti pezzi fasi costrui costrui... Vabbè... No... No... Sbam... Questa è la faccia... Beh... Ma con DT è più facile... Si è faccia stu giocando qui... Sbam... Grazie eh Molto leale qualcosa Oh C'è difficile Spagno Oh belli però Ma guardalo Ma basta Non è che poi mi esce un pezzo di bosom Vado Cos'è? Ma guarda Questo che cazzo Ho fatto minigioco? Sono tanti in questa parte Uh 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 Guarda questo non è efficissimo Con di Ma anche senza di 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 Che bello sta andando a gonfievire Ma abbiamo già tre pezzi di bosom E sto battendo per terra Vabbè Ci prendo la bomba perché Non c'è troppo subito Per prenderla Ok 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 Oh No No Dai Eh vabbè Così non sono stato pronto Guardalo Oh Ma dai No Ma abbiamo già finito Oddio è stato cortissimo Ho mancato pezzi di puzzle Vabbè Vabbè In effetti si questo livello è stato abbastanza corto Ho mancato una lettera a pezzi di puzzle Adesso sono arrabbiato Vediamo un po' che livello abbia sbloccato Guarda il boss Abbia già abbia sbloccato il boss 3 di tirani Allora Facciamo così Mentre non registro Inizio già a riprendere tutte le lettere dei livelli che non ho preso E poi Sblocco Quei livelli segreti Che non ho sbloccato Quindi Si Termino qui la parte numero 11 Della spesa di Donkey Kong Tropical Country Tropical Flee Se vi è piaciuto cliccate un po' di cliccate il commento al salto E vi saluto Ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi